Tra poco il notiziario di E-TV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su E-TV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ben ritrovati nel nuovo appuntamento con la nostra informazione che si apre con la pagina della cronaca perché è stata una settimana tragica sulle nostre strade, quattro morti in altrettanti incidenti stradali, l'ultimo dei quali, lo avete visto nei nostri notiziari di ieri, è costato la vita ieri pomeriggio a Monzuno a una giovane mamma di Crevalcore. Si chiamava Deborah Natali, aveva 33 anni e abitava a Crevalcore. È la giovane mamma vittima dell'ennesimo incidente stradale mortale nel Bolognese, uno scontro fra due auto avvenuto nel pomeriggio del primo maggio a Pian di Lama, nel territorio di Monzuno. Era in macchina col figlio 13enne e la sorella di 18 anni, entrambi rimasti feriti. La ragazza è la più grave, ancora ricoverata in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna. Il compleanno della 18enne. Solo ferite lievi per gli occupanti dell'altra vettura coinvolta. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto causato, a quanto sembra, dall'improvvisa invasione di Corsia da parte di uno dei due conducenti. Il bilancio dell'ultima settimana sulle strade della provincia di Bologna è drammatico, con quattro morti in pochi giorni. Prima di Deborah hanno perso la vita il giovane Manuel Bedonni, motociclista a 25 anni e vittima di uno scontro in moto a Pontecchio Marconi, Akref Zamami, cittadino tunisino di 36 anni, travolto da un'auto mentre viaggiava in monopattino in via San Donato a Bologna. E poi Vittorino Gamberi, il 76enne, che ha perso la vita il 30 aprile in un altro incidente in moto sulla futa a Pianoro. E restando in cronaca, non si fa nemmeno in tempo a dire che il problema spaccate è parzialmente risolto, seppur temporaneamente, che ecco ne avviene un'altra, questa volta colpito un ristorante cinese in Galleria 2 agosto. Ancora una volta è stato usato un blocco di cemento, preso probabilmente da qualche cantiere nelle vicinanze, per mandare in frantumi la vetrata, entrare nel locale e rubare. Il ristorante cinese Bashi fu in Galleria 2 agosto, a due passi da Piazza 20 Settembre, dalla stazione di Bologna, il bersaglio dell'ennesimo furto con spaccata. Il ladro, a quanto pare, agito all'alba, dopo aver forzato e sollevato la serranda, ha sfondato la porta a vetri ed è entrato nel locale, dove in pochi istanti ha messo sotto sopra il biancone per arraffare quello che ha trovato. Il fondo cassa, di circa 200 euro, è un telefono cellulare usato per le prenotazioni e gli ordini da asporto. Come spesso accade in questi casi, il danno alla vetrata, che sarà da sostituire, supera senza dubbio il valore del bottino. Il furto è stato denunciato alle forze dell'ordine. Amareggiati, i gestori del ristorante cinesi, che qui a Bologna ha aperto da solo un paio di mesi, stamattina hanno trovato la brutta sorpresa e a terra anche il blocco di cemento abbandonato dal ladro. Preferiscono non parlare davanti alle telecamere, ma raccontano che le stesse forze dell'ordine hanno ammesso che il fenomeno delle spaccate è ormai dilagante, si parla di quattro episodi solo nell'ultima settimana. In questa zona, poi come è noto, non c'è solo il problema dei furti, spaccio a tutte le ore, risse, accoltellamenti quasi all'ordine del giorno, come testimoniano gli stessi commercianti della Galleria 2 Agosto. C'è spesso il presidio nelle ore di urne, però le problematiche maggiori si hanno nelle ore serali e la mattina presto. Chiederei una maggiore presenza delle forze dell'ordine dalle sei di sera a mezzanotte. Per fortuna che ci sono comunque le volanti che arrivano tempestivamente, come le chiamano, arrivano immediatamente, ma se no qua è terra di nessuno. Cambiamo argomento, politica chiuse, le liste per le europee ci attendono mesi di campagna elettorale pressoché ininterrotta, almeno fino ad autunno inoltrato. 15 dei 76 eurodeputati italiani che siederanno nel nuovo Parlamento di Bruxelles dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi proverranno dalla circosizione nord-est, quella appunto che comprende anche la nostra regione Emilia-Romagna, oltre a Friuli, Trentino e Veneto. Dalle nostre parti la sfida è tra otto liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi, Sinistra, Azione e Stati Uniti d'Europa. Diversi anche i bolognesi presenti, a partire, per citare i più noti, dal capolista PD nella nostra circoscrizione che è Stefano Bonaccini, presidente regionale a questo punto uscente, ma anche Elisabetta Gualmini, sempre nel PD, è ben piazzata al quarto posto della fila. Nel centro-destra, come sappiamo, i big apriranno per lo più la lista, la Meloni e Tajani per Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre Vannacci nella Lega sarà ai piani bassi, almeno nel nord-este. Stefano Cavedagna, però, di Fratelli d'Italia, ha guadagnato una quarta posizione, mentre Guglielmo Garagnani, dello stesso partito, è più in basso. La campagna elettorale per le europee si mescolerà inevitabilmente con quella per le amministrative, nell'Election Day, anzi Days, di giugno. Nel bolognese si vota, come sappiamo, anche in 45 comuni, mentre si attende ancora la data delle regionali, che sarà comunque in autunno inoltrato. Insomma, i prossimi mesi aspettiamoci una full immersion negli slogan. E intanto, col Diretti Bologna ha compiuto 80 anni, lo ha fatto radunando 500 soci in assemblea. Non possiamo stare a guardare camion di materie prime straniere che entrano nei nostri confini e diventano magicamente italiane, mettendo a rischio la salute dei cittadini e il reddito dei nostri agricoltori, che nel frattempo vedono i loro raccolti devastati dai cinghiali. Lo ha detto la presidente di Col Diretti Bologna, Valentina Borghi, in occasione dell'assemblea che ha riunito oltre 500 soci bolognesi dell'associazione, che compie 80 anni. Al Teatro Arena del Sole, la dirigenza di Col Diretti ha incontrato gli associati per affrontare temi legati alle molte sfide per il futuro, come garantire la trasparenza sull'origine degli alimenti con il lancio della raccolta firme, per promuovere una legge europea che imponga l'indicazione chiara su tutte le etichette alimentari, proteggere il territorio dall'invasione della fauna selvatica incontrollata, la richiesta di un piano invasi, ma anche affrontare le questioni ancora aperte in Europa legate alle richieste contro le pratiche sleali e il falso made in Italy, sino ad arrivare alla moratoria dei debiti delle aziende. Sono state tante le battaglie che hanno visto consumatori e agricoltori a braccetto, parliamo dell'etichettatura in tutte le sue sfaccettature, dal Nutriscore, l'etichetta semaforo, a quello che stiamo chiedendo ora, un'etichetta chiara in tutta Europa. Ultimo non ultimo siamo stati al Brennero per modificare i codici doganali, perché non può essere che i nostri agricoltori vengano usurpati del diritto che i prodotti vengono etichettati italiani solo quando la materia prima è veramente italiana. Abbiamo visto prodotti semilavorati, strandieri, che verranno poi trasformati nelle industrie agroalimentari italiane in prodotti italiani. È una truffa ai consumatori e un vero scippo del reddito dei nostri agricoltori. Questo non si può fare e quindi continueremo a combattere questa battaglia come quella contro le emissioni delle nostre stalle, che non si possono paragonare all'ilva di Taranto, così come la burocrazia, così come il ruolo dell'agricoltore custode, custode veramente del nostro patrimonio territoriale. Ultimo non ultimo ricordiamo la legge contro il cibo sintetico, che va studiato e analizzato come un farmaco. Ce la stanno copiando in tutto il mondo. La cultura torna il programma dell'Alma Mater, i classici dell'università che ci accompagnerà fino al prossimo dicembre. Classici, antichi e nuovi, i saperi dell'Alma Mater. È il titolo della nuova rassegna di eventi organizzata dall'Ateneo di Bologna dal 9 maggio al 12 dicembre per diffondere la conoscenza di diverse discipline ed estendere il panorama dei classici fino alla scienza sociale di Albert Hirschman, passando per Levi, Mozart e Marconi e affrontando anche il tema del rapporto tra corpo, cervello e coscienza. Quest'anno abbiamo voluto presentare una nuova rassegna sui classici che estenda un po' il lavoro che è stato fatto, eccezionale in questi anni, dal Centro Studi, la permanenza del Classico, ma estenderlo a tutte le discipline dell'Ateneo. La nuova rassegna prevede sei serate che coinvolgono tanti dipartimenti del nostro Ateneo in serate che vogliono mettere in luce un po' tutte quelle che sono le competenze che abbiamo all'interno del nostro Ateneo sui classici di varie discipline. Ecco, c'è qualche appuntamento particolare da segnalare? Ma la prima serata sarà una serata che riprende lo schema delle serate dei classici, dei classici precedenti, poi avremo una serata che coinvolge gli ambiti medici, una serata su Marconi, saranno tante le novità e penso che siano dei begli appuntamenti di comunicazione con l'intera città. Saranno degli ospiti particolari? Sì, ci saranno degli ospiti un po' particolari in ogni serata, mantenendo un po' quello schema che era stato pensato per le serate dei classici, ripetendo un po' quello schema, ma ampliandolo saranno serate belle e divertenti. Ci può fare qualche anticipazione di ospiti? No, le anticipazioni preferiamo non farle proprio per lasciare un po' anche di curiosità su quello che saranno le prossime serate. Passiamo allo sport, al calcio, motta di ramato la lista dei convocati, pochi minuti fa ci sono praticamente tutti, tranne gli infortunati, ancora parzialmente indisponibili, il sumo oro e naturalmente Fercusson, non ci sarà lo squalificato Bekema, mentre torna disponibile Odgaard, 3.000 invece i tifosi bolognesi che domani saranno a Torino per l'anticipo della giornata di campionato, appunto ore 20.45 Torino-Bologna. Adesso che la partecipazione a una Coppa Europea è certa, il prossimo passo è di ambire a quella massima. Ogni partita diventa pesantissima, ne mancano 4 alla fine del campionato e 6 punti, perché sia matematica la Champions. Si comincia domani sera a Torino, contro una squadra senza troppe ambizioni, che naviga a metà classifica e che vede con il cannocchiale una possibile conference, ma che soprattutto si trova in fase di smobilitazione, visto che Juric andrà via a fine campionato. Il Toro però è una squadra tosta, sempre difficile da affrontare e proprio oggi Juric ha parlato di Motta come di un grande allenatore che ha portato delle novità a livello tattico come nessuno in Europa. I complimenti per Motta e per il suo Bologna piovono da tutte le parti, ma sono tanti adesso gli allenatori che lo studiano nei minimi particolari per cercare di imbrigliarlo al meglio. Lo ha fatto l'Udinese domenica scorsa, lo ha fatto il Monza di Palladino un paio di settimane fa, idem il Frosinone di Di Francesco. Motta sa che oggi i suoi colleghi cercano contro misure e cercano la partita della vita proprio contro il Bologna, rivelazione della stagione. Per questo dovrà curare nei minimi dettagli la partita di domani sera. Senza Beuchemar squalificato, senza Ferguson infortunato e con tanti giocatori in diffida dovrà trovare soluzioni nuove quando gli spazi in avanti si riducono. In trasferta accade meno. La partita di Roma ha insegnato che questa squadra può vincere sempre contro tutti. Adesso ci sono anche le pressioni, saperle gestire e sfruttare la propria forza sul campo e l'unica strada che conosce questo Bologna per raggiungere il traguardo più alto. Qui si chiude il nostro Tg, grazie di averci seguito appuntamente ai prossimi notiziari. E-TV è sempre più online e col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.